Ciao e bentornato sul mio canale Avant Garage Rec Studio Oggi ti voglio parlare di una funzione per me veramente fondamentale all'interno di Studio One che è la catena effetti, ossia ChainFX Come dice il termine, catena effetti, si intende più effetti messi in catena ma la possibilità soprattutto di poter salvare queste catene effetti e richiamarle al bisogno Per me è una funzione che veramente ha risolto tantissimo tempo sprecato Prima, sigla! Ora ti porto nel programma con me Ti faccio vedere qual è la comodità di avere una catena effetti Quando apro un progetto mi piace avere sotto controllo il metering del mio master bus In questo caso io vado su post, perché mi piace avere lo post fader Sulla mia cartella Avant Garage Ed ecco la mia catena effetti analyzers La apro e in automatico si sono aperti un analizzatore di LUFS Un analizzatore di frequenze E un analizzatore più generico di tanti tanti valori Ecco, la comodità di queste catene effetti è che io le posso creare e richiamare al bisogno Semplicemente trascinandomele anche all'interno del progetto Per esempio, mi sono creato in una cartella effetti mix Quando avrò bisogno del mio solito riverbero per la voce Non farò nient'altro che andare su vocal plate Trascinarlo all'interno del mixer Ed ecco che avrò la mia traccia di riverbero già pronta In mandata da assegnare alle mie voci Come procediamo per creare una traccia di canale effetti? È molto semplice In qualsiasi traccia dove andiamo ad applicare degli effetti Per esempio, posso aggiungere anche una traccia audio Per esempio, facciamo finta che questo è il mio basso E io sul basso solitamente utilizzo un cla76 Mono E una channel strip come la channev Perfetto Faccio delle mie regolazioni Qua l'ho imposto su blui È giusto un esempio per farvi vedere Ora, andiamo sulla freccettina di fianco insert Che chiamo memorizza catene effetti A questo punto, come nome, scriviamo base Come descrizione possiamo mettere base 76 più neve E come sotto cartella Posso scegliere Le cartelle che vedo esattamente Sul mio show di effetti Qui sul menu sfoglia Posso inserirle dentro mixing Al momento di mixare la mia traccia di basso Non farò nientr'altro che andare dentro la cartella di mixing E importare la traccia base Ecco che ha mantenuto le mie impostazioni Non so voi ma a me questo tipo di funzionamento di Studio One Ha migliorato tantissimo in velocità durante il mixaggio Quindi io mi ritrovo per esempio ad avere le mie catene FX preferite Tutte salvate dentro effetti mix E ogni progetto mix che vado ad aprire Non faccio altro che selezionare tutte queste tracce E importarle qua E in automatico ho già le mie mandate effetti Da utilizzare durante il mix Logicamente se ho bisogno e ha la necessità Non farò nient'altro che andare a modificare uno per uno questi effetti Come in questo caso il vocal plate ha un beryllium plate Ma potrei metterlo cromato se il brano me lo richiede Però parto già con un 50% fatto E sapete che il tempo è denaro E soprattutto in ambito creativo Se risparmiamo tempo Riusciamo ad arrivare molto prima al nostro obiettivo creativo E quindi a concludere un buon mix E a una nostra idea di suono Spero che questo consiglio sulle catene effetti ti sia stato utile Ti invito a iscriverti al mio canale Ci vediamo nei prossimi video Ciao